E' fondamentale ricostruire il percorso educativo in funzione della trasformazione che l'intero sistema produttivo sta attraversando. La crisi ha accelerato questo processo di trasformazione e oggi i giovani soprattutto che entrano per la prima volta nel mercato del lavoro si trovano di fronte a una domanda di capacità e competenze tecnologiche, scientifiche e in generale numeriche che in passato soprattutto in Italia non sono state sufficientemente coltivate. Credo quindi che sia fondamentale ricostruire l'intera filiera del mondo scolastico, del mondo della formazione professionale, del mondo accademico e poi della formazione continua, quella durante tutta la vita, per abilitare le persone a imparare. Non si deve immaginare che la formazione sia finalizzata all'ultimo miglio, cioè all'ultima novità tecnologica, ma si deve naturalmente rendere la persona in grado di conoscere e imparare queste nuove tecnologie, quindi dare le basi, le basi scientifiche, le basi matematiche, le basi logiche per essere capaci di aggiornarsi costantemente. È una sfida molto importante, tipicamente noi siamo abituati in Italia a privilegiare le materie umanistiche e a vederle in contrapposizione con quelle scientifiche, invece dobbiamo capire che le materie umanistiche si raccordano perfettamente con le materie scientifiche, del resto la nostra tradizione mediterranea dai greci in poi ci hanno insegnato come matematica e filosofia si incrocino, dobbiamo oggi essere capaci di sviluppare questa nuova forma mentale, nuova forma di apprendimento che renderà le persone per tutta la vita in grado di aggiornarsi e di evolversi anche in funzione delle nuove tecnologie. Grazie a tutti.